ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di my wishful vampire nello scorso episodio abbiamo finalmente fatto pace con sarah cioè le cose adesso sembrano andare bene con lei voglio proprio vedere quanto dureranno e il professor johns ha cominciato a parlare a quanto pare dei templari quindi io spero che riusciremo ad approfondire l'argomento quindi cominciamo subito questo nuovo episodio ho informato peter tramite sms che oggi sarah mi avrebbe riaccompagnata a casa potrà restare con dorothy gelosia portami via cosa sto esagerando ho passato una giornata perfetta con sarah non riesco più ad essere arrabbiata per il suo comportamento passato è divertente gentile e premurosa mi fa bene passare del tempo con qualcuno raggiante come lei la sua presenza mi rassicura la prima sarah è radiosa è una donna forte e determinata mi piace averla vicina so che assieme possiamo affrontare ogni cosa passeggiamo per un po mi sento spensierata per la prima volta dopo tanto tempo mi sento una ragazza normale che torna a casa dopo le lezioni in compagnia della sua migliore amica e mentre che ci vale qui mi sento leggera come una piuma ci ritroviamo faccia a faccia colori ma com'è possibile anche la bambina sembra di ritorno da scuola spalanca gli occhi sorpresa di vederci oddio adesso cosa accadrà già mi sto preoccupando ah è contenta davina vabbè io mi fermo in questo gioco è adorabile so per certo che anche se vorrei rimanere da sola con sarah la bambina non cederà mi seguirà fino in capo al mondo quindi corre come un demonietto dritta verso di me si aggrappa la mia gamba con una forza ben superiore a quella di una normale bambina della sua età e perché non ha nulla di normale lei faccio una smorfia addio normalità addio innocenza che fai qui è la prima volta che ci incontriamo mentre torno da scuola mi sorride con quella malizia che conosco bene poi si volta verso sarah e chi è lei? la bambina fa una smorfia sdegnosa e si porta le braccia al petto visibilmente infastidita di vedermi in compagnia ma che fa lori è gelosa? delle nostre amicizie seriamente e si lori non sei l'unica persona del mondo sarah sembra parecchio a disagio eh c'è credo lei i vampiri non li sopporta io preferisco essere gentile lori che bello vederti ti presento sarah la mia migliore amica perché hai bisogno di un'amica quando hai me? ma dai ma come? partiamo male malissimo sicuramente anche tu avrai tanti amici a scuola eh qualcosa mi dice che la risposta invece è no no non mi piacciono gli altri sono stupidi non vogliono mai giocare ai miei giochi e c'è credo che non ci vogliono giocare chissà che giochi gli propini tu se anche a scuola i suoi giochi consistono nell'impiccare giocattoli e assassinarli è comprensibile sarah si avvicina lentamente alla bambina sembra impaurita e affascinata al tempo stesso da questa creaturina dai capelli rosa che in effetti dall'aspetto è adorabile buongiorno lori piacere di conoscerti mo adesso lei gli risponde male già me lo immagino la bambina continua a tenere il muso e si rifiuta di risponderle addirittura io le dico di rispondere l'educazione è prima di tutto nella vita lori quando un adulto ti parla non è educato a non rispondere perché non ti presenti? perché dovrei? come? lori va bene ciao sono lori bertoli piacere bla 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 ma che presentazione di M è questa? ma cos'è? ma poteva sforzarsi un po' di più ma io non lo so a volte sa essere davvero esasperante sospiro e stringo la mano della bambina siamo comunque andando nello stesso posto guarda Sara e le fa la linguaccia deve davvero imparare le buone maniere però è tenera mi dispiace Sara lori a volte sa essere un po' particolare diciamo così per non dire altro si tratta di un eufemismo Sara continua a fissare la bambina con un misto di diffidenza e curiosità poi alza lo sguardo verso di me non avevo mai visto la loro sorellina è davvero carina all'apparenza si è soprattutto malefica aggiungerei potrà avere un visino da bambola ma una uscita da un film horror lori mi fa un sorrisone soddisfatto come a dire te l'avevo detto che sono la più carina non siamo lontane possiamo continuare da sole vai pure Sara assolutamente no ho detto che ti avrei riaccompagnata a casa e non andrò da nessuna parte finché non saremo di fronte alla tua porta wow ok inoltre con una bambina non si è mai troppo sicuri se sapesse probabilmente lori è più forte di tre uomini adulti passeggiamo per un po' in un silenzio rilassato lori è capace di rimanere calma a volte nemmeno male è un bel cambiamento il silenzio con lori è raro quindi è prezioso è apprezzato arrivato al maniero troviamo Peter sugli scalini mi guarda un attimo senza dire niente ho l'impressione sia arrabbiato con me sembra contrariato magari anche geloso chi lo sa è perché ho deciso di tornare con Sara? eh sì mi sa proprio di sì che coraggio lui ha passato il pomeriggio con Dorothy grazie per avermi riaccompagnata Sara sei stata molto gentile ci vediamo domani Sara si china verso di me e mi bacia sulla guancia cosa le prende? no vabbè lo ha fatto apposta per fare un dispetto a Peter a domani ciao lori si allontana agitando la mano mi volto e incrocio lo sguardo di Peter stavolta è certo è arrabbiato ma se n'è andato sbatte la porta di casa lasciandomi da sola con lori nel portico no vabbè ha avuto un attacco di gelosia all'improvviso lui anche lei sembra sorpresa dal suo comportamento eh siamo in due lori sospiro ci ritroveremo mai sulla stessa lunghezza d'onda? boh speriamo presto non esiste nulla di meno sicuro oggi è finalmente il grande giorno oh il festival dell'università non riesco a contenere l'eccitazione finalmente ci siamo era ora non vedevo l'ora di vederlo ci sono bancarelli ovunque e le persone sono in costume anche gli insegnanti si mescolano con piacere ai loro studenti e in momenti come questo che mi dico che la vita da studente è un piccolo pezzo di paradiso le ragazze pompon hanno creato una coreografia frenetica mentre i giocatori di calcio fanno prodezza in campo ci sono persone ovunque e tutte sembrano divertirsi un mondo mi sento bene è una bella atmosfera mi piace amo la folla l'eccitazione la festa mi sento totalmente nel mio elemento questo pomeriggio Peter suonerà di fronte a tutte queste persone non so come faccia io sarei spaventata a morte non vedo l'ora di vederlo suonare e allo stesso tempo sono un po' preoccupata per lui so che sarebbe capace di catturare l'intero pubblico con le sue agili dita ma Peter di solito è così riservato così schivo e ritrovarsi al centro dell'attenzione tutti gli occhi su di lui non posso non trovarlo un po' strano sarà fantastico non credo proprio che lui sbaglierà non ho alcun dubbio sul fatto che lascerà una grande impressione su tutti nessuno si azzarderà più a prenderlo in giro dopo lo spettacolo la sua musica è così ammaliante al maniero non c'è ragione per cui non debba esserlo anche qui mi dirigo all'anfiteatro dove si terrà lo spettacolo ritrovandomi faccia a faccia con Samantha ma perché sempre lei allora Davina non sai fare niente e ti ritrovi costretta a sederti a guardare gli altri mantieni la calma mantieni la calma non strangolarla buongiorno Samantha sto bene grazie felice di aver parlato con te adesso levati grazie cerco di allontanarmi ma lei mi raggiunge ma perché dico io non smette mai di spargere il suo veleno spero tu abbia visto la mia esibizione prima sono il genere di ragazza capace di fare quel genere di cose ah sì mi si avvicina ulteriormente ma che vuole non immaginerai a letto come scusa ma chi se ne frega ma perché mi dici certe cose incantevole guarda proprio la finezza in persona ma io non lo so ma chi se ne frega questa ragazza non ha alcuna classe mi fa piacere sapere che tu sia capace di tali prodezze Samantha ma non sono interessata serve cosa mi stai insultando vero nooo solo la tua impressione cerco di andarmene che è meglio sono stufa di questa discussione per cui non provo il minimo interesse cerco nuovamente di superarla ma lei mi afferra per la spalla no vabbè non ne posso più non te ne andrai così non abbiamo ancora finito di parlare io sì sei solo tu che vuoi parlare a me non interessa parlare con te al contrario credo che non ci sia più nulla da dire oh è arrivata Sara Sara appare raggiante come sempre e scaccia la mano di Samantha dalla mia spalla le faccio un sorriso riconoscente oh ci ha appena salvate bisogna essere almeno in due per riuscire a liberarsi di una piattola come Samantha che cosa vuoi Sara non hai altre cose da fare Sam e tu non hai altro da fare che star qui a proteggere la tua principessa oh allusioni e ora che sta dicendo osservo Sara le sue guance si sono fatte rosse come un peperone e ha toccato un punto dolente mi sa tanto non è lei a doversi vergognare anche se i sentimenti di Sara sono ambigui Samantha non dovrebbe prenderla in giro io sono seriamente arrabbiata Samantha ora basta non ti rendi conto di come puoi ferire gli altri hai davvero un grosso problema prendo Sara per la mano e la guido verso l'entrata ben decisa a mettere distanza tra noi e quella arpia dopo qualche falcata mi volto verso Sara sembra ancora in imbarazzo grazie per essere intervenuta Sara non capirò mai quel genere di persona Sara mi fa un sorriso timido grazie per averla rimessa al suo posto spero che ciò che ha detto non ti abbia infastidita troppo niente affatto devo ammettere che non mi piace ciò che stava insinuando ma la cosa non la riguarda Sara sembra ancora depressa e mi sento un po' in colpa stavo venendo a cercarti perché presto inizierà il mio spettacolo di danza verrai a vedere certo non vedo l'ora di vedere di cosa è capace e c'è ancora di tempo prima dell'esibizione di Peter la seguo per i corridoi eccitata sono sicura sarà stupenda neanche Samantha potrebbe rovinare questo bel giorno mi avvicino al palco felice non vedo l'ora di vedere la mia amica ballare mi siedo in prima fila impaziente di vedere l'inizio dello spettacolo fino a qualche giorno fa neanche sapevo che Sara sapesse ballare sembra eccellere in ogni sport io un po' la invidio anch'io vorrei essere brava in qualcosa ma sembra non abbia ancora trovato la mia strada le luci si spengono gradualmente e la musica comincia a riempire la stanza e musica rock allegra e dinamica che si adatta alla perfezione a Sara la ragazza appare sul palco bellissima nei suoi pantaloncini ha delle gambe da capogiro l'intera sala applaude gli studenti gridano il suo nome dimentico sempre quanto sia popolare a volte mi domando che ci faccia al mio fianco inizia la sua coreografia i suoi movimenti sono agili veloci aggraziati sembra controllare alla perfezione ogni muscolo del suo corpo con una facilità impressionante la musica rallenta un po' e si fa più sexy lei mi vede e mi strizza l'occhio le dispondo le faccio un sorrisone e le restituisco l'occhiolino lo spettacolo è così sensuale e al contempo energico che rimango senza fiato è davvero sublime è come se fosse nata per stare là sopra sotto i riflettori di fronte allo sguardo invidioso degli spettatori sembra una vera diva balla molto bene si può dire che sappia ballare davvero bene sono certa spezzerà qualche cuore stasera esegue le acrobazie con flessibilità sono davvero sorpresa dal suo talento il pubblico è in delirio mentre alcuni iniziano a gridare e fischiare mi metto a fare lo stesso contagiata dal loro entusiasmo peccato che non possiamo vedere lo spettacolo Sara riceve tutta l'energia positiva che emerge dal pubblico e il suo sorriso si allarga presto un gruppo di ballerine la raggiunge e lo spettacolo prende un'altra dimensione vorrei quasi raggiungerle sul palco e ballare con loro le mie gambe tremano dall'eccitazione non sapevo che misteri spille nascondesse tanti talenti che città colma di misteri dimentico per un istante tutte le mie preoccupazioni quotidiane felice di trovarmi qui e ci voleva proprio questo momento la musica si ferma e le luci della sala vengono riaccese le ballerine salutano il pubblico Sara mi fa un gesto con la mano le rispondo con entusiasmo sollevando un pollice per farle capire quanto mi sia piaciuta sussulto quando noto sulla sedia accanto alla mia un fantasma ma come anche qui anche adesso si tratta di una vecchia signora in un vestito da sera degli anni 50 anche lei applaude osservando il palco ok che scena particolare immagino che anche lei si stia godendo la magia dello spettacolo anche se non si tratta di quello a cui ho appena assistito vabbè la prima stranamente lo trovo toccante non mi fa paura questo fantasma pacifico che sembra essere bloccato per sempre in questo momento di gioia mi commuove sembra felice Sara abbandona il palco e io rimango lì a osservare la mia strana vicina ok ci prenderanno per pazza non se ne accorgerà nessuno mi ci vuole un bel po' per rendermi conto che la persona seduta accanto a me mi sta osservando confusa penserà di essere lei quella che sto fissando a bocca aperta oh che situazione cavolo passerò nuovamente per una pazza e vabbè prima o poi ci faremo l'abitudine mi sta stai bene Davina sembri un po' confusa va tutto bene Sara lo spettacolo è stato stupendo non riesco a credere che tu sia capace di insomma wow lei arrossisce felice per il complimento le sorrido radiosa non dimenticherò mai quei passi di danza mi avvicino per sussurrarle ad un orecchio è solo che c'è un fantasma nella sedia accanto alla mia lei sussulta visibilmente sorpresa e fizza con curiosità il sedile in questione ovviamente lei non vede nulla non preoccuparti non è aggressivo diciamo che oltre agli studenti hai avuto una spettatrice dall'aldilà così sono l'unica a ridere della mia pessima battuta Sara sembra ancora preoccupata sei sicura di stare bene? l'ultima volta che hai visto un frammento d'anima eh sì siamo finiti all'ospedale già le rassicuro te lo giuro va tutto bene l'ultima volta è stato completamente diverso lei annuisce ma continua a sembrare preoccupata i fantasmi spaventano le persone che non possono vederli proprio perché simbolizzano l'ignoto io ho finito per abituarmici in lontananza di nuovo noto Samantha fissarla con gelosia eh sì povera idiota non sei l'unica a sapersi muovere un po' di umiltà non le farebbe male mi volto verso Sara un po' a disagio non so se posso chiederle di restare con me per il concerto di Peter nooo non credo la prenderà bene provo a chiederglielo e vediamo come va? so che potrebbe essere un po' complicato ma ti andrebbe di restare con me per ascoltare Peter suonare? non ti arrabbiare lei sembra sorpresa dalla mia richiesta una piccola smorfia appare sul suo bel viso abbronzato ovviamente le dà fastidio devo rifiutare l'ascia di guerra non è ancora stata seppellita tra noi due eh lo sapevo beh almeno ci ho provato l'importante è provarci nella vita allora ci ritroviamo dopo? sì dopo ti mando un messaggio ok a dopo Davina grazie per essere venuta le faccio un gran sorriso mentre la osservo allontanarsi a passo leggero io invece aspetto che venga sistemato il pianoforte vedo arrivare Dorothy si siete a qualche posto da me tra le prime file e ok allora io mi fermo qui anche con questo episodio fatemi sapere ovviamente come sempre cosa ne pensate giù nei commenti se questo episodio vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like se non siete iscritti vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi video e noi ci vediamo in un prossimo gioco ciao ciao